Lalalalala Okay, siamo a livello Stadio provinciale Possiamo riuscire a raggiungere livello San Siro Proviamoci, dai! Lalalalala Grazie mille, vai! Tutti ritornelli così 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4, 3, 4 3, 4 3, 4, 4 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5